Allora, quello che vedete in questo momento è lo standard 12.207, che è quello di cui abbiamo parlato un attimo fa, che sostanzialmente, come vediamo nel titolo, ci parla di quelli che sono i software life cycle processes, ovvero i processi che vengono utilizzati per gestire il software. Scorro velocemente e vado a prendervi... Vado direttamente qua... Eccolo qua, i contenuti. Piccola introduzione a quelli che sono gli standard. Ripeto, vi metto a disposizione questo, dategli un'occhiata in generale. Probabilmente nella vostra carriera vi capiterà di dover leggere uno standard per capire qualche dettaglio. hanno una struttura molto particolare. Se l'avete già visto, vi orientate, altrimenti rischiate di perdervi un attimo. Che cosa c'è in uno standard? Allora, nella parte iniziale c'è ovviamente l'overview, che vi dà una breve panoramica di cos'è lo standard, molto molto di alto livello. In particolare nell'overview ci sono lo scope e il purpose, ovvero il contesto a cui si applica questo standard e lo scopo di questo standard, che cosa serve. E poi, ovviamente, le limitazioni. Quindi, lo standard vi dice il contesto in cui opero è questo, lo scopo è questo, ovviamente ci sono dei limiti a cui questo standard non si applica. La sezione 2, quella che si chiama conformance, vi dice sostanzialmente come possiamo essere conformi, noi, le nostre organizzazioni, i nostri prodotti, quello che volete, allo standard. Quindi, come si pensa che abbiamo utilizzato quello standard, l'intended usage, la full conformance, ovvero, se vogliamo essere completamente conformi allo standard, questo è quello che dobbiamo fare, quindi rispondere a una certa serie di requisiti. E poi c'è la parte di tailored conformance. Torno un attimo indietro e andiamo a vedere velocemente di cos'è stato lo scope. Allora, qui mi dice, questo standard definisce, ve lo allargo un pochettino così forse riuscite a leggere meglio, un common framework for software life cycle processes, with well defined terminology, that can be referenced by software industry. contiene processi, attività e task che devono essere applicati durante l'acquisizione di un prodotto software o servizio, durante la fornitura, sviluppo, operatività, manutenzione e anche disposal, quindi fine vita, di un prodotto software. poi dice, lo standard fornisce processi che possono essere utilizzati. Lo scopo, non entro nel dettaglio, faccio una veloce panoramica, poi lo potete leggere con calma. lo scopo è fornire un insieme di processi per facilitare la comunicazione tra acquirenti, fornitori e altri stakeholder nel ciclo di vita di un prodotto software. Quindi l'obiettivo è sostanzialmente capirsi di cosa stiamo parlando. Per chi può essere utile? Per chi compra prodotti software e servizi. La differenza tra prodotto e servizio sostanzialmente è che quando io acquisto un software ho il mio software in modalità, scusate, in formato binario eseguibile o in formato e o in formato sorgente. Nel caso in cui io abbia un prodotto, un servizio, sostanzialmente io ho soltanto l'uso. Quindi normalmente il servizio, il prodotto su cui si basa il servizio viene gestito da un'azienda e quindi io semplicemente lo uso. Quindi la posta elettronica di Google, Gmail, è un servizio. Voi non avete nessun pezzo di software che avete installato a casa vostra. Se invece volete utilizzare un client di posta, sul vostro PC, Outlook, Mail o qualunque altro client di posta utilizzate, allora quello è un prodotto software. Quindi abbiamo detto acquirenti, fornitori, sviluppatori, operatori, manutentori, manager, quality assurance manager e utenti di prodotti software. Poi parla di è utilizzato in two-party situation. Cosa vuol dire? Vuol dire che immaginiamo che ci sia chi produce il software e chi lo commissiona. Il two-party situation è questa. C'è qualcuno che vuole il software o un committente e un produttore. Quindi questo è il contesto in cui si applica. Ovviamente dice maybe equally applied where the two parties are from the same organization. Immaginate una grossa organizzazione, magari una multinazionale, ci sarà un dipartimento che produce il software, un altro dipartimento che ne ha bisogno e questi due ovviamente pur essendo parte della stessa organizzazione probabilmente non saranno la stessa cosa. Saranno due unità diverse e quindi tutto quello che c'è scritto qua dove abbiamo un cliente e un fornitore si applica anche se le due entità che collaborano sono all'interno della stessa organizzazione. La situazione può variare da un informal agreement se immaginiamo che ci siano due sotto due dipartimenti all'interno della stessa organizzazione magari non c'è un documento formale un contratto up to legally binding contracts quindi ho dei contratti legali e formali dove ovviamente si applica diciamo il diritto privato tanto per intenderci. ok the international standard may be used by a single party through self-imposed set of processes quindi se immaginiamo di avere un'organizzazione unica in cui non abbiamo le due unità parliamo di una grande multinazionale dove ovviamente ci sono settori completamente separati se abbiamo un'organizzazione magari più piccola in cui c'è sviluppo del software e utilizzo del software che non sono così due unità separate ecco lo standard può essere utilizzato anche al suo interno attraverso quello che qui chiama un self-imposed set of processes ovvero l'organizzazione non lo fa per comunicare con qualcuno di esterno ma lo fa internamente per organizzare meglio le proprie attività e quindi si auto-regola e si auto-impone una serie di processi limiti this international standard does not detail the life cycle processes in terms of methods or procedures required to meet the requirements and outcomes of the processes quindi lo standard non ci dice esattamente nel dettaglio che cosa fare ovvero come si scrive il codice no ci dice che c'è un'attività di scrittura del codice che deve avere alcune caratteristiche ma si ferma lì non dettaglia la documentazione quindi ci sono altri standard ok ad esempio qui cita l'iso IEC 15289 che parla di documentazione che deve essere prodotta all'interno di un processo software quindi l'aspetto secondo me importante in questo standard scusate non è questo quello che volevo fare era questo does not detail the life cycle processes in terms of method or procedures vi dice quali sono le attività da fare ma non vi dice nel dettaglio come ad esempio un'università può dire che si devono fare le lezioni ci si deve poter prenotare per gli esami si deve poter sostenere un esame si deve poter registrare il voto dell'esame però come vengono fatte queste singole attività non lo precisa l'importante è che si vengano fatte e che ci siano alcune caratteristiche fondamentali ok quindi questo è il livello del dettaglio abbiamo poi quella che la sezione 3 che è la normative references quindi potrebbero esserci in questo standard non è il caso altri riferimenti altri standard a cui questo standard deve conformarsi ok norme precedenti che ovviamente dobbiamo rispettare in questo caso non c'è nulla perché diamo una terminologia molto base poi abbiamo la sezione 4 che è quella di terms and definition in cui abbiamo la definizione di termini di base ecco questa secondo me è molto interessante per cui vediamo la prima qui parla di acquire ovvero lo stakeholder che acquisisce procures a product or service from a supplier l'acquisizione e il procurement sono due cose leggermente diverse nel schermo del dettaglio l'acquisizione io compro e basta il procurement è un'attività un po' più complessa in cui io magari non acquisto semplicemente ma vado ad esempio a fare un bando a cui possono rispondere diversi fornitori e poi vado a selezionare il migliore e nelle operazioni legate al bando alla risposta del bando alla selezione del vincitore ovviamente alcune di quelle che sono i processi descritti in questo standard si applicano ok ad esempio la definizione dei requisiti abbiamo una serie di altri termini quindi utilizzatelo come riferimento perché i nomi le terminologie che trovate qua sono terminologie che potrete utilizzare vado a vedere un attimo se c'è la definizione di servizio ecco qua il servizio è l'esecuzione di attività o lavoro o compiti associati con un prodotto ok quindi lo svolgimento dell'attività è il servizio mentre invece il software product che abbiamo qua sotto è un insieme di programmi software procedure e eventualmente documentazione e dati che poi ovviamente permettono di fornire un servizio ok quindi vedete che questo standard tutto sommato rientra cioè ha una visione che è assolutamente coerente con quello che abbiamo detto nella prima parte di questa lezione dicendo che in realtà il software non è un semplice in programma qui mi dice che un prodotto software è un insieme di programmi di procedure quindi come utilizzare i programmi ragionevolmente associate a documentazione e dati sorvoliamo su questa parte quindi ripeto vi metto a disposizione lo standard dategli un'occhiata anche solo per andare a leggere le terminologie poi se avete domande o curiosità magari ne discutiamo poi in prossime lezioni poi applicazioni di questo standard in realtà dove viene utilizzato e poi finalmente abbiamo la parte 6 che è system life cycle processes e sistema hardware più software e software specific processes il software quella cosa che abbiamo detto non si tocca cioè quello che sussurra all'hardware le possibilità torno un attimo all'indice così vediamo più nel scusate in generale di cosa si tratta ecco questa è la sezione 6 relativa a i system life cycle processes abbiamo agreement acquisì agreement organizational project processes technical processes eccetera purtroppo questo indice non è fatto granché bene nel senso che non è indentato quindi è difficile da seguire ecco quello che mi premerà farvi vedere è piuttosto questo sotto software specific processes dove abbiamo software implementation 7.1 software support e software reusable processes quando parliamo di software implementation processes abbiamo questi sotto capitoli che sono implementation requirement analysis architetural design detail design construction integration e qualification testing i processi di supporto invece sono questi che sono indicati qua sotto in cui abbiamo documentation configuration management quality assurance verification validation review audit problem resolution di nuovo il mio obiettivo non è entrare nel dettaglio l'obiettivo di questo corso è fondamentalmente farvi imparare la programmazione ad oggetti però è importante capire che la programmazione è un pezzettino tutto sommato all'interno di un qualcosa di molto complicato perché la programmazione se volete è questo 7.1 ok sviluppo del software vuol dire tutto questo ok quindi ci sono 18 titoli di terzo livello lo sviluppo del software è una parte di uno di questi 18 ok quindi tanto per mettere in prospettiva chiaramente che la scrittura del codice è un pezzettino a questo punto torno un attimo a quelle che erano le slide di prima per mettere un attimo in prospettiva quello di cui stiamo parlando allora ci sono una serie di attività molto ampie queste come si situano in quello che è la vita di un software allora la vita di un software tendenzialmente vede una serie di fasi le tre fasi principali sono queste sviluppo operatività e manutenzione lo sviluppo è quello che termina con quella che si chiama il rilascio quindi a un certo punto il mio team prenderà il software e lo metterà in funzione lo installerà nei server del cliente è quello che normalmente si chiama il deployment quindi qui dico ho il mio software pronto e poi ho il deployment che vuol dire prendo il mio software lo installo lo metto a disposizione del cliente o lo attivo do accesso ai servizi se si tratta di un servizio e non di un prodotto che vendo direttamente a questo punto inizia la fase di operatività fino a quello che è il retirement e a un certo punto i software terminano quindi non verranno più utilizzati ok tenete presente che questa fase può essere molto molto lunga ok quando parliamo di sviluppo solitamente ragioniamo in termini di mesi ok quando invece ragioniamo in termini di operatività stiamo ragionando su scala di anni ok vi faccio un esempio il software bancario che è il software che in un contesto che è stato uno dei primi che ha visto l'informatizzazione attualmente è molto molto ampio ma al suo interno ci sono ancora applicazioni scritte negli anni 60 in un linguaggio che si chiama COBOL quelle applicazioni sono ancora lì intatte che funzionano quindi è probabile che il vostro conto corrente magari le operazioni base del vostro conto corrente vengano svolte ancora utilizzando delle procedure COBOL quindi quei pezzi di software non hanno ancora raggiunto la fase di retirement durante la fase di operatività c'è anche una serie di azioni in parallelo che sono quelle di manutenzione la manutenzione vuol dire c'è qualcosa che non va ho trovato un difetto quindi lo correggo oppure vado a fare un'estensione di quello che è il mio software perché i miei clienti i miei committenti scoprono che hanno bisogno di nuove funzionalità e quindi le vado ad aggiungere oppure il contesto in cui opera il mio software cambia e quindi devo adattarlo alle nuove esigenze quindi correzione di difetti il mio software durante l'operatività incappa in un comportamento che non è corretto e quindi chi è in carico la manutenzione deve andare a correggere quel difetto in modo che il mio software si comporti in maniera giusta adattamento quindi cambiano le regole del contesto e quindi devo adattare il mio software ad esempio cambia l'aliquota delle imposte dell'IVA ad esempio sui prodotti quindi il mio software che calcolava l'IVA al 2% 10% 20% deve essere adattato devo fare un intervento specifico oppure evoluzione aggiungo nuove funzionalità al mio sistema quindi quando parliamo di manutenzione o correggiamo o adattiamo in realtà sono due cose molto simili solo che la correzione prevede che io abbia fatto un errore in partenza per cui ho scritto il codice che non corrisponde alle richieste l'adattamento invece è un qualcosa che in realtà non è un errore mio ma è una variazione del contesto poi in termini pratici vuol dire che io comunque devo andare a fare una modifica al mio software però il difetto tendenzialmente è colpa mia e quindi probabilmente lo pagherò io l'adattamento è un qualcosa che non è responsabilità mia e quindi mi verrà pagato e ovviamente poi l'estensione quindi il mio cliente ha bisogno di nuove funzionalità quindi non sviluppo un programma da zero ma semplicemente vado a estendere quello che ho quando parliamo di manutenzione sostanzialmente è come se stessimo aggiungendo altre piccole attività di sviluppo quindi c'è uno sviluppo iniziale diciamo zero che è quello che produce la prima versione del mio sistema che viene rilasciato e poi messo in attività e poi ho una serie di rilasci di questi micro sviluppi molto più piccoli perché magari devo andare semplicemente a correggere un difetto che verranno fatti periodicamente nel tempo a questo punto veniamo a parlare di un altro aspetto importante che sono i modelli di processo ovvero come possiamo organizzare i nostri processi quando parliamo di processo vi ricordo stiamo dicendo un insieme di attività da fare quali sono le regole di questa attività quindi che cosa richiedono in input e cosa producono in output che cosa utilizzano in termini di risorse persone eccetera e quali sono i vincoli a cui devono sottostare in generale sto semplificando molto quando parliamo di processi abbiamo tre grossi tipi di approccio uno quello che si chiama build and fix qualcuno lo chiama cowboy programming ovvero scrivo il codice e spero che tutto funzioni un approccio diciamo basato sulla documentazione semiformale basato su magari documentazione UML un approccio formale basato su modelli matematici e quello che è l'approccio agile ovviamente questi tre approcci il primo è una variante si distinguono in base a qual è il livello di formalità che io voglio avere all'interno del mio processo quindi voglio andare a dettagliare qualunque piccola attività motivarla e descriverla seguire delle regole ben precise oppure voglio rilassare un pochettino quindi passiamo da un livello di formalità massimo che è per l'appunto uno sviluppo formale poi abbiamo un livello che intermedio che è quello che chiama documentazione based per arrivare a livello agile tenete presente che queste sono tre grosse modalità all'interno di queste modalità abbiamo tantissime varianti ok menziono velocemente quando parliamo di modelli document based parliamo di modello waterfall di modello v incrementale eccetera di roop quando parliamo di agile parliamo di scrum di stream programmi di crystal eccetera eccetera quando parliamo di metodi formali abbiamo diversi metodi formali abbiamo anche una versione formale di uml quindi ripilogando il punto di partenza che è quello che applicate voi è il solo programming uno sviluppo per conto proprio è il cowboy solitario che scrive il codice lo esegue e spera che funzioni tutto ovviamente il difetto fondamentale è che non scala se dovete scrivere un programma di poche centinaia di righe di codice va bene altrimenti non funziona anche perché in questo approccio non ci sono requisiti non c'è nessun design non ci sono test non c'è validazione ok scrivo il codice e basta è quello che si chiama build and fix ovvero scrivo una prima versione continuo a modificare finché io o il cliente siamo soddisfatti e a un certo punto entro in fase di manutenzione in cui modifico se mi viene segnalato un difetto finché il mio cliente è soddisfatto quindi finché ho corretto e ritorno qua e poi alla fine ritiro il mio sistema ok sebbene ovviamente questo sia un approccio non raccomandato con un sacco di difetti tuttavia a volte più spesso del necessario è il processo che viene messo in atto ok è ovvio che in questo modo io non ho nessun controllo non so la qualità del mio software non riesco a sapere i costi non riesco a sapere i tempi quindi è l'approccio artigianale e come in realtà la gente si immagina si sviluppi il software se non sa che in realtà la scrittura del codice è un pezzettino all'interno di un insieme di attività di processi molto più complicate quindi torniamo all'esempio del 12.207 dove il software development è un pezzettino all'interno di tante attività un altro approccio a cui si fa spesso riferimento è quello che si chiama waterfall dove invece il tutto è molto sequenziato e ho una serie una sequenza di attività che vengono svolte uno dopo l'altro dopo ogni attività congelo l'output lo verifico e passo all'attività successiva è un approccio che possiamo chiamare document driven ed è sostanzialmente un approccio descritto da Winston Royce un ricercatore del Software Engineering Institute nel 1970 il modello è all'incirca questo ho una fase di requisiti verifico che i requisiti siano a posto quindi faccio attività di via in via passo alla fase di specifica verifico che la specifica sia corretta e passo alla fase di design verifico che il design sia corretto e passo alla fase di implementazione verifico che l'implementazione sia corretta con il test e passo alla fase di integrazione faccio un test di integrazione e passo alla fase di manutenzione è ovvio che nel momento in cui durante il design mi accorgo che c'è qualcosa che non va o nella verifica del design mi accorgo che c'è qualcosa che non va o è un qualcosa delimitato il design oppure scopro che in realtà era un problema di un'attività precedente quindi torno indietro e a questo punto rifaccio la specifica verifico e vado avanti nel frattempo però il design o la fase che stavo svolgendo viene bloccata e torno indietro e riparto da capo ok è un po come nel monopoli quando arrivo nella cella che mi dice riparti dal via vado avanti a un certo punto scopro qualcosa che non va torno indietro e riparto da capo ovviamente non è che devo rifare tutto però devo rivedere tutto riverificare tutto andare avanti di questo passo qual è il grosso vantaggio di questo processo molto semplice lineare schematico per cui l'ideale per il manager che vuole sapere dove siamo cosa stiamo facendo e in quanti siamo un incubo per chiunque deve svolgerlo in pratica tra l'altro il waterfall era stato proposto come un fremo generale per capire di che cosa è in che cosa consiste il software lo sviluppo del software qualcuno l'ha preso alla lettera e quindi l'ha messo in pratica ovviamente il risultato è che io ho un'organizzazione molto ingessata in cui è difficile fare le cose in maniera concreta ok c'è qualcuno che applica il waterfall o dice di applicare il waterfall in realtà non è possibile applicarlo così com'è nessuno si sognerebbe di fare una cosa così compratimentata ok però è utile per capire tutta la sequenza la cascata di attività che vengono fatte quindi come modello di riferimento è utile come modello pratico per realizzare il software non ha minimamente senso l'80 per cento delle persone che parlano di software senza sapere di cosa cosa dicono al di fuori dell'ambiente software dicono sì utilizziamo il waterfall utilizzate il waterfall senza sapere che in realtà in pratica è un qualcosa di inapplicabile nella realtà dei fatti ok quindi quando qualcuno vi dice sì tu utilizzi il waterfall l'unica risposta che potete dare è sì e poi fate qualcosa di sensato oppure se avete la possibilità di parlare alla pari con questa persona gli spiegate che in realtà il waterfall è un modello generale di riferimento e nella pratica voi fate qualcosa che possa realmente funzionare e non sia semplicemente un qualcosa che sta solo sulla carta quindi la parola che potremmo utilizzare per descrivere il waterfall è burocratico quindi l'ideale per il funzionario per sapere che ci sono una serie di attività una dopo l'altra una cosa ovviamente non realizzabile nella pratica un approccio un po più sensato è quello che viene chiamato un approccio incrementale in cui io delle fasi iniziali di requisiti specifica dell'architettura e poi identifico una serie di incrementi da andare a sviluppare e questi li svolgo in una maniera un po più agile senza dover pensare di tornare indietro a rifare tutto da capo congelando quello che stavo facendo tanto per capirci questi sono diversi modelli di processo che vi propongo a confronto allora in tutti questi modelli faccio le stesse cose quindi facendo riferimento allo standard 12.207 ci sono una serie di processi di attività che comunque faccio poi come li organizzo dipende dal processo che sto utilizzando le attività che qua sono riportate sono quelle di definizione di requisiti di design in arancione di coding in violetto di test di unità in verde di test di integrazione in blu e di test di sistema in rosso nel waterfall io ho requisiti design codice test unità test integrazione test di sistema uno dopo l'altro in stretta sequenza ok questo quantomeno nella pianificazione poi in pratica se trovo un errore in fase di integrazione che ricade in un problema che è stato introdotto in fase di requisiti in teoria dovrei qui sospendere ripartire da capo rifare i requisiti rivedere il design rivedere il codice e rifare tutto in un approccio incrementale quello che viene fatto solitamente di fare analisi dei requisiti design e poi spezzare una serie di incrementi quindi invece di avere un rilascio unico alla fine del mio processo o una serie di rilasci in questo esempio ne vediamo due ma ne posso pianificare quanti ne voglio di diverse unità e incrementare nel senso che il secondo rilascio aggiunge incrementa quanto fatto precedentemente quindi codifica test unità integrazione e sistema vengono fatti ogni volta per i nuovi incrementi l'idea del approccio incrementale almeno nella sua versione base è quella che io all'inizio definisco l'architettura e il design per tutti gli incrementi e poi per ogni incremento vado a scrivere il codice e fare tutte le attività di test l'approccio evolutivo è una variante di quello che è l'approccio incrementale dove in realtà io vado a fare un requirement in design iniziale di massima dettagliato per quella che è la prima iterazione per il primo rilascio per il secondo prevedo di fare una piccola evoluzione quindi di aggiungere qualcosetta di più dettagliato per il secondo rilascio e ovviamente per il terzo eccetera esiste poi il passo ulteriore che è un approccio iterativo in cui io inizialmente faccio requirement in design esclusivamente per la prima iterazione per il primo blocco di rilascio che voglio fare e poi una volta fatto questo allora mi concentro sulla prossima iterazione quindi i requisiti e il design relativi al secondo blocco non li faccio all'inizio li faccio dopo perché un approccio iterativo è decisamente meglio di quelli precedenti perché sostanzialmente quello che succede che quando io inizio il mio progetto software non ho le idee chiare le idee si chiariscono a me sviluppatore ma soprattutto a chi ha richiesto il software man mano che sviluppo e quindi quando i primi risultati del test i primi prototipi e il primo rilascio inizio a capire che cosa fa il sistema e cosa può fare e quindi sono in grado io committente di dare indicazioni più specifiche ai sviluppatori su cosa fare nelle prossime iterazioni per cui andare a analizzare i requisiti del design di qualcosa che farò tra tre mesi sei mesi è tempo sprecato perché non avrò modo di dettagliarlo o le idee che ho adesso tra sei mesi saranno completamente cambiate e quindi tanto vale farlo tra sei mesi quando ho le idee più chiare questa quindi l'approccio iterativo è uno degli aspetti fondamentali che stanno dietro lo sviluppo agile l'approccio iterativo è anche dietro a quello che si chiama unified rational unified process ed è un approccio proposto nel 99 da un insieme di consulenti tra cui Grady Butch che abbiamo già menzionato qualche volta e che si basa su uno sviluppo basato sull'architettura e ovviamente iterativo l'idea qual è? L'idea è che non abbiamo come nell'approccio waterfall una serie di passi ben cadenzati uno dopo l'altro ma abbiamo quelli che vengono chiamati nella terminologia ROOP come dei workflow l'approccio ROOP ve lo descrivo molto velocemente ma giusto per farvi capire qual è la filosofia che sta dietro è di avere quattro fasi successive una fase di concezione del problema una fase di elaborazione in cui capisco cosa devo fare definisco i requisiti una fase di costruzione e poi una fase finale di transizione durante queste quattro fasi io ho i workflow cioè una serie di attività legate tra di loro che sono più o meno attive per cui ho una fase di business modeling che è molto attiva all'inizio e man mano va scemando ovviamente quando ho finito di costruire il mio prodotto non ho più necessità di fare modellazione di quello che è l'attività di business o i requisiti che ovviamente iniziano un po dopo il business modeling e hanno un picco ovviamente tendono a calare a un certo punto ma durante la costruzione o dei picchi perché magari vado a riprendere in mano requisiti che non avevo considerato prima analisi design ovviamente il design inizia qui cioè al picco durante la fase di elaborazione e poi posso avere tante iterazioni per cui ho di nuovo degli altri picchi durante la fase di costruzione implementation e test ovviamente all'inizio non ho nulla man mano inizio a prepararmi tenete presente che molto spesso io inizio a scrivere i test prima di scrivere il codice per cui qui ho una fase significativa di implementation e testing ma ovviamente ho il picco durante tutta la fase di costruzione e poi posso avere qualche attività di scrittura del codice di test anche dopo i test vanno cadenzati il deployment ovvero la consegna e l'installazione del nostro software ovviamente all'inizio c'è una fase di preparazione poi inizio a farla quando ho finito la costruzione configuration management e change management ovviamente all'inizio o poco se non una fase di preparazione poi man mano ho attività significative relative al cambiamento project manager ovviamente vado a picchi quindi pianifico la prossima attività e dopodiché mi rilasso poi pianifico la prossima la seguo e mi rilasso e environment quindi predisposizione di tutto quello che è l'ambiente necessario per le varie fasi ovviamente ho dei picchi iniziali in queste quattro fasi in cui predispongo tutto e poi calo ovviamente all'interno di ogni fase avrò più iterazioni due iterazioni di elaborazione qui ho tre elaborazioni di costruzione due iterazioni di transizione per l'evoluzione del mio sistema eccetera quindi quelli che vediamo qui quelli che vengono chiamati dei workflow possono essere messi in parallelo a quelli macro gruppi di processi che sono definiti nello standard iso 12 207 e ovviamente quelle attività non vengono svolte in un certo istante di tempo ma vengono svolte sparse sparpagliate durante tutta l'esecuzione del mio processo quindi questo ovviamente parte dell'esperienza di questi tre consulenti che di progetti ne hanno svolti a centinaia e quindi sanno che in pratica le cose vengono svolte più o meno in questo modo poi il loro approccio ROOP cerca di formalizzarlo e di dire che dobbiamo prepararci per fare le cose in un certo ordine dobbiamo essere pronti in un certo istante con certe attività e quindi ci danno delle indicazioni pratiche operative per chi deve mettere in pratica l'attività ma sanno che ovviamente più o meno pianificate o meno le cose vengono fatte con questa cadenza temporale quindi sicuramente non con delle fasi una dopo l'altra come previsto dal modello waterfall e poi abbiamo quelli che sono i processi agili che cos'è un approccio agile è un approccio che sostanzialmente rivede la prospettiva di quello che viene fatto e cerca di cambiare il modo pratico in cui svolgo le mie attività non entro nel dettaglio dell'approccio agile ci sono poi successivamente delle delle attività c'è un c'è un corso ingegneria del software 2 che è dedicato proprio a capire come in pratica posso andare a mettere in pratica un processo agile ma il punto è che grossomodo all'inizio degli anni 90 quando tante persone erano convinte di poter svolgere sviluppi software seguendo l'approccio waterfall molti consulenti si sono resi conto che in questo modo non funzionava quindi un approccio è stato quello ROOP quindi cercare di andare a formalizzare una serie di workflow che vengono eseguiti l'uno dopo l'altro con delle tempistiche più o meno cadenzate un altro approccio è quello agile ovvero cercare di liberarci nello sviluppo del software da tanti vincoli e cercare di fare esclusivamente le cose essenziali fondamentali per andare a produrre del software e ovviamente il punto è quali sono gli elementi fondamentali ecco a questo scopo nel 2001 un gruppo di consulenti che si sono ritrovati per discutere di questi problemi hanno stilato quello che si chiama l'agile manifesto ovvero una serie di punti di riflessione che cercano di spostare l'attenzione da quello che prima era pensato essere importante a quello che invece secondo loro dovrebbe essere il fulcro dell'attenzione i principi sono quelli che vediamo qua ovvero dare più valore agli individui e alle interazioni tra di essi rispetto a seguire dei processi e mettere in campo dei tool alla fine lo dicevamo all'inizio di questa lezione parlando di quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell'ingegneria del software l'ingegneria del software è un qualcosa di basato fortemente sull'essere umano e quindi dobbiamo focalizzarci sulle persone che svolgono che scrivono software e a come possono interagire tra di loro il fatto di avere dei processi molto dettagliati e specifici definiti è decisamente meno importante attenzione gli estensori di questo manifesto non dicono che i processi non servono a niente ci dicono che è molto più importante focalizzarsi sugli individui e sulle loro interazioni che avere dei processi onnicomprensivi quindi un po' di il processo serve ma il fuoco l'attenzione deve essere più che altro sugli individui e sugli strumenti diciamo che negli anni 80 e 90 c'è stato all'interno del mondo software dello sviluppo software c'è stata un'attenzione eccessiva a quelli che venivano chiamati strumenti case computer aided software engineering con la convinzione che questi strumenti potessero risolvere qualunque problema ecco il punto è che in generale gli strumenti software aiutano non possono essere la soluzione a un problema quindi l'idea è gli strumenti sì ma prima di tutto pensiamo a come possono supportare le attività delle singole persone e le interazioni delle loro attività il secondo punto del manifesto agile era working software over comprehensive documentation che vuol dire è inutile scrivere centinaia di pagine di un manuale se poi il mio software non funziona prima faccio funzionare il software dopodiché vado a scrivere la documentazione questo non vuol dire non scrivere documentazione per niente vuol dire che è più importante avere software la documentazione viene dopo customer collaboration over contract negotiation di nuovo molto spesso quello che succede in pratica è che chi vende software o magari i commerciali di un'azienda software cercano di andare a strappare un contratto in cui definiscono le cose vendendo il software al prezzo più alto possibile a questo punto una volta firmato il contratto chi si è visto si è visto alla data di consegna andremo a consegnare quello che abbiamo fatto il punto è che come vi dicevo prima oggi io non so esattamente come fatto il software che mi servirà tra sei mesi non so neanche come fatto software che mi servirà tra un mese perché non ho idea di come varieranno le condizioni al contorno e non neanche idea chiara di quello che mi serve per cui quello che è possibile fare è scoprirlo man mano collaborando tra chi utilizzerà il software e chi lo produce questo è l'unico modo per andare a produrre un software che sia veramente utile e venga incontro alle esigenze di chi lo sta comprando o acquisendo avere dei contratti fissi e ben definiti è un qualcosa che normalmente porta a un software che non risponde alle mie esigenze e non funziona in generale torno alla app di tracciamento andare da fare un decreto in cui sono definiti i requisiti di un software che verrà consegnato tra un mese un mese e mezzo due mesi senza avere una collaborazione stretta tra chi utilizzerà quel software e chi lo sviluppa è una ricetta infallibile per un disastro o un qualcosa che è uno spreco di soldi e non sarà utile ultimo punto responding to change over following a plan il contesto in cui opera un software soprattutto se un software utile cambia sempre per cui è molto più utile attrezzarsi in modo da reagire velocemente a esigenze che cambiano o semplicemente a clienti che si rendono conto di quello che per loro importante mentre prima non lo capivano quindi magari il contesto è sempre quello ma non era chiaro e quindi lo si scopre pian piano magari tramite la customer collaboration rispetto a definire un piano ben definito a lungo termine quindi di nuovo il waterfall che mi definisce una serie di fasi con scadenze ben definite nel tempo non funziona devo essere pronto domani a scoprire che il mio cliente ha un'esigenza urgente e essere pronto domani a dargli quello che gli serve quindi questi sono i principi fondamentali di quelli che sono gli approcci agili non c'è un unico approccio agile ci sono diversi modelli di processo ovviamente semplificati perché l'idea è di andare a focalizzarsi sugli individui le loro interazioni piuttosto che sui processi a essere attrezzati al cambiamento piuttosto che avere un piano a lungo termine ma l'idea è che questi processi agili cercano di rispondere a queste esigenze di priorità usando un approccio per l'appunto agile senza troppe sovrastrutture ultimo aspetto che vi menziono oggi riguarda quelli che sono dei modelli per andare a valutare e migliorare lo sviluppo del software questo è un approccio che è un po' in contrasto con quello agile in cui i processi vengono dopo vengono prima la pratica però è un approccio molto utilizzato ed è bene che sappiate di cosa si tratta allora se io devo andare ad assegnare un contratto software a tante aziende come faccio a selezionare le varie aziende? allora la risposta 1 è l'azienda che mi chiede meno soldi è quella che io vado a scegliere il problema è che non è detto che risparmiare soldi ora pagando meno l'azienda che produce il software sia un grosso vantaggio perché magari sul lungo termine la qualità di quello che mi dà è molto bassa quindi fare un acquisto di software utilizzando un criterio del massimo ribasso cosa che purtroppo la pubblica amministrazione fa ancora oggi molto molto spesso è di nuovo un approccio deleterio dobbiamo mettere dentro degli aspetti di qualità ovviamente se dobbiamo oggi andare ad assegnare un contratto non possiamo andare a valutare oggi il software perché non c'è ancora, dovrà essere sviluppato l'unico modo di andare a avere una qualche garanzia sul fatto che il software verrà sviluppato correttamente è che l'azienda a cui affidiamo il contratto segua una serie di principi e di pratiche che in generale universalmente sono riconosciuti come avere un impatto positivo sulla qualità del software che sviluppo come tutti gli approcci di qualità noi andiamo a garantire la qualità del prodotto non valutando il prodotto che non c'è ancora ma andando a mettere dei vincoli su come viene sviluppato il prodotto ci sono un paio di standard che sono CMMI e SPICE CMMI è uno standard prevalentemente americano sviluppato dal SCI, Software Engineering Institute SPICE invece è uno standard europeo ma i principi di base sono molto simili quindi l'idea è che io posso andare a valutare la bontà di un'organizzazione in termini di sua maturità nell'applicare delle giuste pratiche nello sviluppo del software come funziona? sostanzialmente l'idea è che io vado a valutare la maturità di un'organizzazione che sviluppa software su una scala molto semplice di nuovo CMMI e SPICE sono leggermente diversi questi 5 livelli che vediamo qua sono quelli definiti da CMMI quindi più è matura un'organizzazione più io mi fido immaginate dover andare a chiedere a qualcuno di costruirvi una casa o di ristrutturare il vostro appartamento ecco, voi vorreste che l'azienda a cui affidate il lavoro sia il più maturo possibile faccia le cose a regola d'arte nel migliore dei modi possibili ecco, questi schemi di maturità sostanzialmente vanno a misurare quanto a regola d'arte si comportano le organizzazioni il primo livello è quello che si chiama iniziale in cui abbiamo un processo che non è predicibile quindi abbiamo un gruppo di sviluppatori che sostanzialmente scrivono codice non sappiamo bene come e quindi è difficile essere sicuri che se loro ci dicono una data di consegna e un costo questi vengono poi rispettati possono essere bravi quanto vogliamo però non hanno in piedi un meccanismo che sia controllabile e riproducibile per cui il secondo livello di maturità quando andiamo a vedere un'organizzazione è andare a essere sicuri che la nostra organizzazione quella a cui vorremmo affidare il lavoro abbia dei processi che siano ben definiti e che quindi ragionevolmente permettano a questa organizzazione di dire sì, io ho una certa serie di processi questi mi permettono di sapere che sulla base della storia sulla base di una serie di altre caratteristiche sono in grado di darti delle stime ragionevoli e quindi sono in grado soprattutto in caso di problemi di sapere come porre rimedio e quindi so che il tuo processo è sostanzialmente analogo a processi che ho già messo in atto e quindi so che tempi, costi e livello di qualità sono più o meno quelli che riesco a prometterti il terzo livello è quello in cui ho dei processi che sono caratterizzati quindi so che posso utilizzare un certo tipo di processo che mi garantisce tempi più brevi e qualità inferiore oppure tempi un po' più lunghi costi un po' più alti ma migliore qualità quindi so che mettendo in pratica una serie di attizioni, di attività magari test più esteso in base all'esperienza che ho nella mia organizzazione posso garantire ai miei clienti certe caratteristiche immaginate soltanto di voler garantire delle prestazioni significative tempi di risposta ecco so che se utilizzo un certo tipo di sviluppo quindi dedico più tempo ai test di prestazioni ecco posso garantire certe caratteristiche quindi l'organizzazione ha dei processi che sono definiti e questi processi mi danno delle possibilità di garantire dei risultati finali il livello successivo è quello che si chiama managed dove i processi non soltanto sono definiti da base del passato so che normalmente mi danno buoni risultati in termini di qualità efficienza eccetera ma ho dei processi che io vado a gestire e quindi misuro quello che faccio quindi tengo traccia delle ore che i miei sviluppatori usano per le varie attività vado a misurare l'efficacia dei miei sistemi di test vado a misurare la produttività delle persone eccetera eccetera quindi non soltanto so che normalmente nel passato un certo tipo di test di prestazioni ha funzionato bene quindi se lo applico posso garantire dei risultati migliori ma misuro e quindi sono in grado sono in grado di costruire una base dati utilizzata utilizzabile in futuro ma sono in grado anche immediatamente di capire che se nel mio processo c'è qualcosa che non va il quinto livello è quello che si chiama Optimizing ovvero ho la capacità non soltanto di andare a misurare i miei processi ma nel momento in cui scopro un problema all'interno di un processo di attivare quello che possiamo chiamare un metaprocesso che mi permette di modificare la mia organizzazione e di rispondere adeguatamente a quello che è un'esigenza che è sorta durante un progetto e quindi vuol dire che io ho in atto una serie di procedure che posso mettere posso attivare qualora necessario per andare a migliorare quello che sto facendo nel progetto che sto seguendo adesso o comunque raccogliere sufficienti informazioni per andare a adattare e migliorare tutti i processi che ho in atto adesso in futuro ovviamente la preferenza dovendo assegnare un prodotto un contratto a un'azienda che produca un software è per un'azienda che abbia un livello di maturità il più alto possibile questi due standard che abbiamo menzionato prima ovvero Spice e CMMI che cosa sono? sono degli standard che mi permettono non a me ma a delle società di consulenza di andare all'interno di un'azienda vedere come sviluppano software e andare a certificare che quella azienda ha un livello di maturità che può essere iniziale, ripetibile, defined, managed oppure optimizing quindi le aziende possono sottomettersi a una certificazione fatta da terze parti e andare nel momento in cui vanno a richiedere o a partecipare a un bando o a discutere su un contratto andare a mostrare un certificato che dice il mio livello di maturità è un livello 3 oppure 4 di conseguenza chi va ad assegnare il contratto potrà valutare questo e quindi pagarlo di più o preferire chi ha una maturità più alta rispetto a chi ha una maturità più bassa quindi per concludere abbiamo visto che l'ingegneria del software è una cosa molto più complicata del semplice scrivere un programma e che il software, un prodotto software non è semplicemente un programma è molto di più e richiede molte più attività abbiamo visto che anche solo per la produzione sono necessarie una serie abbastanza ampia di attività che vanno da definizione dei requisiti alla definizione del design all'implementazione al test tutte le attività di verifica e convalida tutte le attività di gestione queste ovviamente sono attività che richiedono costi più elevati tempi più elevati complessità in generale e abbiamo visto che per andare a gestire queste attività ci sono diversi approcci ovviamente escludendo quello che possiamo chiamare di cowboy programming abbiamo approcci formali in cui ho una serie di modelli matematici molto spesso che possono essere utilizzati per andare a garantire un certo livello di corrispondenza tra quelle che sono le esigenze del cliente e quello che fa il mio sistema ho dei modelli semiformali ROOP che abbiamo visto ma anche altri modelli incrementali oppure ho degli approcci che sono agili in cui sostanzialmente vado a ridurre tutto quelli che sono gli aspetti meno rilevanti dando enfasi ad alcuni aspetti ovvero la collaborazione tra gli individui la capacità di focalizzarmi sul software che funziona piuttosto che sulla documentazione la collaborazione con i clienti piuttosto che avere un piano ben definito e soprattutto essere pronto a rispondere al cambiamento non appena capita quindi con questo spero di avervi dato una panoramica generale su che cos'è l'ingegneria del software e su come l'ingegneria del software in realtà sia molto di più della semplice scrittura di un programma e quindi che scrivere del software richieda un'organizzazione complessa e che ovviamente richieda dei costi costi che garantiscono che le attività vengano fatte correttamente all'inegno rispondesse ottenere un'organizzazione complessa e quindi presenta un'organizzazione complessa e anche alla fine con la semplice giusti che i nostri amici e quindi possa utilizzare del software in realtà usare della semplice qui in realtà è Grazie a tutti.